ok ragazzi eccoci qua visto che era tanto attesa è finalmente arrivata la miui 10 per notte 6 pro in passato in passato è un mese che in giro comunque diciamo che nel periodo scorso molti di voi e io anche ci lamentavamo del fatto che non era stranamente era già uscita la miui per note 5 e per note 6 pro non era ancora uscita chiaramente il telefono essendo più nuovo probabilmente più bisogno di più tempo per lanciarla e adesso è uscita prima ho visto la notifica e in questo momento la sto scaricando sono al 56 per cento è abbastanza grossina quindi dovrebbe portare alcuni miglioramenti come dice qui nel sound quindi nel suono nella musica il design full screen l'esperienza quindi probabilmente le notifiche ma lo vediamo adesso quando la finisce l'aggiornamento il preloading quindi il caricamento e vabbè altri miglioramenti ottimizzazioni ok questo è quello che porta questa cosa e niente dai allora aspettiamo che di finire di finiamo di scaricarla e vediamo com'è questa miui punto 10 su notte 6 pro ok ragazzi ci siamo aggiornamento eseguito and talk disponibile vediamo lo sblocco facciale sembra anche più reattivo e vediamo insieme che cosa è cambiato se qualche cosa è migliorato perché mi presumo che ci siano dei miglioramenti chiaramente l'ho appena attivato anch'io l'ho appena quindi lo vediamo insieme a vederlo così di primo acchitto sicuramente le icone come vedete adesso sono diverse hanno cambiato la forma hanno cambiato anche il colore sembra poi tasto schermo spento la notifica è molto più chiara e si vede molto meglio sono cambiate anche le schermi le scritte che sono leggermente più in rilievo e questa è una cosa positiva delle notifiche è migliorata e comunque esteticamente molto più bella sfondo chiaro con icone azzurre adesso ti da anche i kilobyte di consumo e mi sta dicendo che kilobyte di consumo il giorno l'ora e il mese vabbè comunque la barra notifiche è decisamente migliorata accessibile subito la pagina delle impostazioni vediamo la velocità che cosa è migliorato quindi chiudiamo tutto chiudiamo tutto e partiamo con and talk che mi serve wow veloce telefono beh ragazzi anche le la velocità è aumentata decisamente youtube si sembra un forte miglioramento in questa mia ui 10.0.4.0 potremmo farla appunto e basta comunque se io ci vedo un miglioramento sicuramente nell'apertura delle cose le notifiche sono migliorate poi avete visto anche le gesture adesso non ve le mette più in orizzontale ma ve le mette in verticale si chiudono scorrendo le verso il lato piccole mia attenzione bella questa allora in pratica si può arrivare direttamente a il blocco inserirla nel multischermo ok quindi metterla nella parte superiore e torna allo schermo vedete ok metto premendo non si può mettere nel multischermo youtube aggiungere multischermo vedete me lo mette nella parte superiore dello schermo posso utilizzarlo in maniera e avere sotto le applicazioni aperte molto carina questa cosa comunque chiuse tutte le applicazioni tac 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 e qui come si chiude non ho capito come si fa a chiuderla cerchiamo di capirlo insieme ok adesso è aperta ok adesso ho capito vedete adesso è aperta esci e mi esce dal multischermo bella bella cosa sostanzialmente dei miglioramenti ci sono ci sono delle cose che sono veramente interessanti detto questo ci vediamo al prossimo video